buonasera a tutti sono andrea tavernati vicepresidente della casa della poesia di como e sono qui per presentarvi l'edizione 2022 del premio internazionale di poesia e narrativa europa in versi e in prosa questo è il regolamento che potete scaricare dai nostri siti e che è ad avere una certa tradizione è un premio dedicato appunto sia alla poesia che alla narrativa ed è presente in sette sezioni sia relativamente agli editi e agli inediti e anche alla poesia dialettale quest'anno quindi è un premio decisamente ampio ma dedicato esclusivamente alla letteratura in tutte le sue varie scansioni per quale motivo dovreste partecipare in modo particolare a questo premio rispetto ai tanti altri premi che ci sono in tutta italia perché noi abbiamo cercato di costruirlo intorno a due pilastri fondamentali il primo è la ricerca l'individuazione di una serie di poeti e narratori che non siano già i soliti nomi ultra conosciuti ma che piuttosto siano magari delle persone che hanno pubblicato ma non hanno ancora avuto una rilevanza che invece meriterebbero o che addirittura sono completamente sconosciuti hanno solo nel cassetto tanti belli inediti ma che meriterebbero a nostro avviso di essere maggiormente valorizzati proprio per questo motivo il premio è stato concepito come una costola e in stretta connessione con il festival internazionale europa inversi che ormai è giunto all'undicesima edizione e che ogni anno si svolge a como nell'ambito del festival viene anche realizzata la premiazione finale di quanti sono stati scelti dalle nostre giurie all'interno di questi di questo premio e i poeti e narratori hanno l'opportunità di fronte al pubblico del festival di leggere i loro testi non soltanto ma gli inediti vengono principalmente pubblicati e attraverso un regolare contratto di edizione con la casa di rice i quaderni del bardo di stefano donno che collabora strettamente sia con la casa della poesia di como sia per quanto riguarda la realizzazione della del premio è appunto la pubblicazione degli inediti poi c'è una sezione di valorizzazione anche degli editi e i poeti in modo particolare che vengono premiati possono accedere all'antologia del festival all'interno della quale vengono pubblicate delle loro poesie quindi c'è un ventaglio volutamente ampio di riconoscimenti il premio non si limita quindi a distribuire diplomi onoreficenza e pacche sulla spalla ma vuole contribuire veramente alla conoscenza di quanti vengono selezionati dalla giuria la giuria che presenta sia una sezione dedicata alla alla poesia che è presieduta da milo de angelis quindi un notissimo poeta italiana e una sezione dedicata alla narrativa che è presieduta invece dal professor gianmarco gaspari docente di letteratura italiana all'università dell'insubria poi tre giurati ci sono anch'io c'è soprattutto laura garavaglia presidentessa della casa della poesia di como e c'è anche ruberto calaverni noto critico del corriere della sera e quindi il mio invito è quello a tutti quelli che sono interessati alla letteratura a partecipare al nostro premio la scadenza quest'anno è il tre rigorosamente il 30 di aprile perché il festival si terrà poi conseguentemente alla fine di maggio non c'è molto tempo fra la scadenza del premio e la scadenza è la realizzazione della premiazione e quindi invito quanti potrebbero essere interessati a consultare il regolamento del premio che trovate sul sito di europainversi.org e della casa della poesia di como online si può facilmente scaricare e leggerselo con la massima tranquillità e quindi spedite spedite saremo ben felici di esaminare i vostri editi e i vostri inediti e di conoscere i vostri i vostri testi con grande con grande gioia e valutandoli con attenzione possibilmente spediteli il prima possibile non per altro perché come in tutti i premi c'è solitamente un grosso affollamento di testi negli ultimi giorni prima della scadenza e questo naturalmente comporta delle difficoltà per la giuria e soprattutto il rischio che magari qualcuno non venga valutato adeguatamente come meriterebbe grazie e quindi a presto con il premio i vostri testi e il festival europainversi messi messi